Lunedì 11 dicembre 2023 a Milano in Piazza degli Affari a Palazzo Mezzanotte e sede di Elite Borsa Italiana ha avuto luogo la cerimonia di conferimento del Premio Industria Felix, l'Italia che compete. Per assegnare i riconoscimenti vengono analizzati i bilanci del 2021 di 700.000 società di capitali in tutti i settori imprenditoriali, in collaborazione con l'ufficio studi di Servet Group. Il centro di implantologia del dottor Marco Parravano si posiziona tra le uniche 15 top imprese del settore sanità con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria su tutte le circa 20.000 aziende sanitarie analizzate attualmente presenti sul territorio italiano. Come amministratore unico della società sono onorato di ricevere questo riconoscimento dall'industria Felix Magazine. La nostra struttura sanitaria è una struttura specializzata nell'implantologia dentale a carico immediato che permette la riabilitazione di parziali o totali intere arcate dentali nell'arco di poche ore, 6-8 ore. Il dottor Marco Parravano, che dirige il centro di implantologia dentale, era tra gli invitati per ritirare l'alta onorificenza di bilancio nel 53esimo evento del Premio Industria Felix per essersi distinto per competitività e affidabilità, secondo i parametri dell'analisi svolta. Il centro specialistico abruzzese sul podio assieme ad autorevoli società della sanità. Quali sono i fattori che hanno determinato la crescita della sua azienda sanitaria nel corso del tempo? Consideriamo che fondamentali sono il coraggio, la capabilità, il controllo del rischio e anche la determinazione per andare avanti. Poi importanti sono anche la scelta delle tecniche e delle tecnologie avanzate, la selezione del personale sanitario, amministrativo, corsi di perfezionamento professionale, il controllo del marketing affidato a delle agenzie specializzate nel settore. Il più importante di tutti rimane la passione e l'amore per il proprio lavoro, che dà quella spinta e quell'energia per raggiungere il successo. Il premio, oltre a essere una vetina di lustro per l'azienda sanitaria del dottor Parravano, rappresenta un modello virtuoso di rappresentanza per la regione Abruzzo, che non di frequente si posiziona con successo i scenari di questo tipo.